I pulite grisci Oh per me, ma che sta la vostra figlia è? Si, mia figlia Grazie Non mai sapiva Bella, quant'anni andai? Si Buono, buono, buono E non è l'oro che avete confesso di mia Ma io mi confesso è già la settimana passata E non è la moschera E non è la moschera? Va buono E io mi leggo, stai andando No, non dico no C'è mia moglie che si sta scambiando Allora, stai andando a me, ma signor Ma non abbiamo A me non è che mi viste Si, si, voi potete Io, voi sono già vero Signor Che sogno un parpeg Si, un parpegno Ma signor, che stanno Che stanno con me di giacca Che stanno con me Che stanno con me Che stanno con me E questa città Mi dà la mia C'è tutto il cuciolato E io mi chiamano per Ah, che stanno con me Ma che stanno con me Ma che stanno con me Ma che stanno con me Abbiamo unito Andiamo unito E io devo fare un'azionatura Che stanno con me Andiamo unito Andiamo unito Andiamo unito Andiamo unito E io E io E poi mi chiamano E io E io E io come si usa ora eh? c'è il fratastorcio ora c'è per oviiiiibundiii ma che ti c'erano la stagia niente? vieni alla vista stanzi ma adesso ci metto la stagia niente grazie finisci con il zale ormai ecco mangiaci e portami al ciasci di lavoro che oggi faccio lottare andiamo A voi non bemo tutto, allora si propone. Davanti ciò metti e si studiate i minuti, e che ora si coppa giù, vieno. Ah, saluto. Grazie a tutti. 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 no 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 caccia il figlio dalla testa che ha mio figlio e te non ti cacca e se io la vuoi sapete ancora? ci potete sconare bubbro? si ogni volta che passo non me caccia l'occhi in voglio e poi andiamo non mi ci devo fare un sonno per il camaraio cosa? te lo vai guampando ehi figlio andiamo facciamo lo sforzo no 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 a questo punto non caccia un po' di discorso l'hai a sapere mi fa bocca a te lo dico papà e torna a coppia se io voglio dare i vostri voci un po' becchia avrai visto l'ora? se e chi è questo tu? chi dì? ma a scuola c'è niente? no e allora mandagli una certa distanza e c'è l'unico si e distanza torchiglia ma vuoi? adesso tu li trovi mi manda una lì mi manda una lì mi manda una lì e 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 caro compari ho avuto una visita che non me l'aspettavo né ora né mai e e e e poi caro compari perchè siete salito dalla finestra? e eh non posso oh non potete incanare io sono un medico mi ha detto un medico? si ma che benissimo? e i e 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 è stato bello compare neo eh compare veramente eh però io vi dico se a voi ha chiesto i saloni oppure no certo compare con gli altri saloni perchè mi sarebbe noto una cosa compare niente stavo vedendo i saloni eh e volevo porto giù assoluti c'erano la cresa ti parti e poi ce lo mando a far bene ma compare ma il bambino non ci tagliamo chi dovrebbe capire al peggiorno compare io capite che sta a casa il giovane oggi appena si vedono i bambini i capelli lunghi io lo mando ciò e lo tagliamo davite ragione compare noi sac sac e ci tagliamo eh senti dici posso minchierarmi mia moglie e gli alicio che si cambia ah grazie lo andava in salva vasta e questo è anche il punto non l'ho portato a manca lì ancora io vorrei venerci no voi ma per via sta bruciando eh tutto così eh e non ho vinto a 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